meglio conosceremo noi stessi e meno temeremo il nostro stesso potere e sono sicuro che capirete meglio queste parole man mano che vediamo le altre scoperte la prima scoperta vi porterà a guardare il vostro corpo in una maniera che probabilmente differisce da quella che avete imparato da bambini o quando eravate a scuola noi tendiamo a vedere noi stessi anzi siamo condizionati a vedere noi stessi come vulnerabili deboli e ci è stato insegnato che abbiamo bisogno di aiuti esterni ai nostri corpi per proteggerci da ciò che accade intorno a noi che sia per rinforzare il sistema immunitario o che riguardi la longevità e l'invecchiamento e cose del genere io vi sto offrendo io voglio condividere con voi alcune scoperte che vi aiuteranno a vedere diversamente voi stessi tenendo a mente questo vedrete che ciò che vi dirò avrà senso allora l'adulto medio ha circa 50 trilioni di cellule nel proprio corpo e a prescindere da come sia stata calcolata la media siamo tutti d'accordo che sono davvero tante cellule approssimativamente 50 trilioni di cellule ora pensateci ogni singola cellula è più di una semplice piccola sacca di sale acqua e dna c'è molto di più in ogni cellula sono molto complesse e stiamo ancora cercando di capire quanto lo siano ma ogni cellula genera potenziale elettrico ogni cellula nel corpo genera circa 0,07 volt di potenziale elettrico e voi direte non è male ma 0,07 volt non è molto e avete ragione finché non moltiplicate quello 0,07 volt per 50 trilioni di cellule e non voglio che vi annoiate coi calcoli ecco qua 0,07 volt moltiplicato per 50 trilioni di cellule fa 3,5 trilioni di volt di potenziale elettrico nel vostro corpo wow cosa succederebbe se poteste sfruttare quei 3,5 trilioni di volt per creare un profondo stato di guarigione un profondo stato di intuizione conoscenza e risveglio le cellule staminali adulte chiamate ancestrali possono da sole riparare il dna pensate al potenziale di tutto ciò e c'è dell'altro sappiate che ogni cellula del vostro corpo funziona come un transistor e un resistore proprio come coi vecchi televisori o le vecchie radio come alcuni dei primi computer usciti ogni cellula del vostro corpo funge dal transistor e dal resistore ciò che fanno queste componenti è far circolare le informazioni facendole viaggiare nel corpo ogni cellula del vostro corpo funziona da condensatore conserva e rilascia informazioni conserva energia e rilascia energia in momenti precisi ogni cellula del vostro corpo assorbe fotoni di luce e sono tanti ogni cellula del corpo assorbe questa è la composizione fondamentale dell'atomo fotoni ogni cellula del vostro corpo assorbe questi fotoni di luce ogni cellula del vostro corpo emana fotoni di luce esistono degli scanner con in cui si possono vedere questi fotoni voi emanate fotoni e ricevete fotoni ogni cellula nel vostro corpo ogni cellula ha al suo esterno delle funzioni speciali chiamati recettori e non solo ricevono segnali chimici ma ricevono anche segnali elettrici ricevono segnali di informazione che viaggiano su vari spettri e lunghezze d'onda quindi ogni cellula del vostro corpo è un'antenna che riceve e trasmette informazioni ogni cellula del vostro corpo conserva e trasmette informazioni proprio come il chip del computer che state utilizzando ora ogni cellula del vostro corpo funziona come un circuito chiuso funziona allo stesso modo di un circuito ora potreste pensare beh greg sembra che le cellule del nostro corpo funzionino come gli apparecchi tecnologici che noi stessi usiamo e vi rispondo dicendovi che avete ragione c'è una nuova filosofia che sta emergendo in alcune branche della comunità scientifica e che ora vi descriverò brevemente questa filosofia dice che la consapevolezza informa se stessa attraverso la sua creazione e che le cose che creiamo nel mondo sono consapevolezza collettiva che soddisfa il nostro impulso creativo in questo modo scriviamo libri creiamo musica e giriamo film che riflettono qualcosa che stiamo chiedendo a noi stessi di ricordare su noi stessi e questo principio si applica anche alla tecnologia si applica anche a quella tecnologia tanto complessa ho lavorato nell'industria high tech negli anni 70 ho lavorato allo star wars defense initiative negli anni 80 mi sono occupato di laser e di sistemi radar nei 90 di sistemi di comunicazione ho lavorato alla sisco systems nei primi anni 90 a palo alto in california e vi sto dicendo ciò perché sono stato a contatto con la tecnologia per tutta la vita e posso dire per certo di non aver ancora visto una forma di tecnologia che non cerca di replicare il funzionamento delle cellule nei nostri corpi per quanto queste funzionino meglio le nostre cellule sono più resilienti le nostre cellule hanno l'abilità di regolare se stesse ed è qui che volevo arrivare col mio discorso noi siamo tecnologia noi siamo quella stessa tecnologia che abbiamo creato e donato al mondo che ci circonda noi siamo tecnologia e noi regoliamo la nostra tecnologia regoliamo tutto quel potenziale elettrico e la capacità dei transistor dei resistori dei condensatori delle antenne e di tutti i circuiti e delle altre cose che auto regoliamo quando decidiamo di auto regolarci attraverso i pensieri le emozioni il respiro e l'attenzione ed è qui che la saggezza antica entra in scena perché i nostri antenati ci hanno insegnato come fare non lo hanno fatto con la scienza e non si definivano scienziati hanno semplicemente detto è così che funziona e molti di voi che mi state ascoltando così come molti di quelli che mi seguono è come se avessero viaggiato insieme a me durante questi anni loro preservano la saggezza e la conoscenza del passato per noi e il fatto che sarebbero arrivati tempi estremi era stato profetizzato era stato predetto era stato calcolato quasi universalmente i nostri antenati ci hanno detto quando raggiungerete la vostra vera essenza sarete in grado non solo di sopravvivere ma anche di prosperare e trascendere di diventare la versione migliore di voi stessi e di costruire il miglior mondo possibile in questi tempi duri e ora vi darò qualche nozione di biologia per aiutarvi a capire perché la vostra forma suprema di maestria sarebbe affermare la più profonda espressione della vostra umanità e credo che questo sia il nostro compito ora è una scelta dobbiamo scegliere ora secondo voi da dove provengono queste straordinarie abilità umane io vi dico solo che la migliore scienza del mondo contemporaneo ci sta dicendo che l'evoluzione non è la storiella che darwin ci ha raccontato ora in quanto geologo non sono un negazionista credo nell'evoluzione ho visto i fossili di molte forme di vita piante animali insetti la storia si interrompe quando appaiono gli umani vi darò un paio di esempi ho scritto interi libri su questo tema human by design è uno dei libri in cui ne parlo ora vi dirò da dove nascono queste teorie la scienza ci sta dicendo noi abbiamo l'abilità di estrarre dna dal midollo osseo dei fossili di quelli che crediamo siano i nostri antenati ciò che questo ci dice è che abbiamo l'abilità di comparare il nostro dna con quello dei nostri presunti antenati e la scienza ci sta dicendo che non discendiamo da quelle forme di vita primitive secondo la scienza siamo apparsi sulla terra 200.000 anni fa e gli scienziati sono d'accordo sulla data i dubbi iniziano quando iniziamo a chiederci come ci siamo finiti qui siamo apparsi con lo stesso corpo che abbiamo ancora oggi e il dna ci dimostra che non siamo cambiati la stessa conformazione del cranio e le stesse proporzioni corporee abbiamo lo stesso straordinario potenziale che avevamo quando siamo arrivati 200.000 anni fa 200.000 anni fa si presentarono una serie di misteriose mutazioni genetiche che ci resero umani ora ve ne mostrerò una il cromosoma umano numero 2 è forse una delle prove più straordinarie perché questa mutazione ci mostra due cromosomi che si sono fusi tra loro potete vederlo cerchiato si sono fusi insieme due diversi cromosomi si sono fusi insieme per creare un cromosoma migliore e dopo la fusione ci furono dei cambiamenti delle modifiche relative ai geni furono aggiunti alcuni geni alcuni geni furono eliminati alcuni geni sono stati aggiunti e altri furono eliminati questo accadde esattamente quando si verificarono anche altre mutazioni in altri cromosomi dandoci le nostre straordinarie abilità l'abilità di formulare discorsi complessi di cantare di esprimere i nostri pensieri e altro ancora ciò che dicono gli scienziati è che l'evoluzione non può essere responsabile di cambiamenti tanto rapidi si sono verificati nello stesso momento non è stato un processo lento e graduale e questo ha portato gli scienziati nel cosiddetto territorio proibito perché tutto ciò suggerisce una certa intenzionalità la scienza non è ancora pronta per abbracciare intenzionalmente queste teorie sull'origine umana perché queste implicano uno scopo il che esattamente ciò che i nostri antenati ci hanno detto in ogni tradizione indigena si sono tramandate queste nozioni di generazione in generazione di padre in figlio di nonno in nipote di nonna in nipote i nostri antenati ci dicono che siamo prodotti di un intervento un intervento cosmico che ci ha donato un potenziale straordinario un potenziale che stiamo iniziando a capire solo ora